Grazie. 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 La Chiesa Indulgenza, concessa alla Chiesa Aquilana da San Pietro Celestino, per ricordare il giorno della sua incoronazione, e largamente rinnovata dai suoi successori, per partecipare degnamente, invocando su di noi, pecatori, la misericordia di Dio. Dal libro del profeta di San Geremia, questa è la parola che fu rivolta dal Signore a Geremia. Fermati alla porta del Tempio del Signore, e l'altro rinuncia tutto questo discorso dicendo. Ascoltate la parola del Signore, voi tutti chiudate e attraversate queste porte per... Fermati alla porta del Tempio del Signore, e l'altro rinuncia tutto questo discorso dicendo. Fermati alla porta del Tempio del Signore, e l'altro rinuncia tutto questo discorso dicendo. Di calma di IG, collection del Narete della serra, e una parola che si dice synchronissima, Mari insinigti a tutti i giorni come s 없다zzatti e non l'eurob Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.